Noi entriamo nel vivo della quinta edizione del Festival Internazionale del Folklore Prima di chiamare il primo gruppo ad esibirsi vorrei rubarvi ancora qualche minuto perché ogni anno per noi è un onore accogliere questi gruppi che vengono da tutto il mondo e che hanno voglia con noi di condividere le loro tradizioni, le loro culture e per noi è un onore poter condividerle con voi Allora signori e signori ci siamo Vi rubiamo ancora qualche minuto però prima di lasciarvi a queste meravigliose musiche e danze perché vogliamo invitare qui sul palco con noi due persone che sono diventate oramai delle nostre amiche che collaborano con noi da cinque anni da quando appunto abbiamo iniziato a fare questa manifestazione, questo evento e sono Daniela Delic e Milania Kuzamonovic non me ne voglia per la lettura del cognome che fanno parte dell'agenzia Blue Diamond appunto con la quale collaboriamo da cinque anni accogliamole con un grande applauso Daniela Delic e Milania Buonasera a tutti da parte della Blue Diamond siamo veramente onorati di venire qua per la quinta volta, per la quinta edizione di questa bellissima manifestazione che è già diventata una tradizione vorrei ringraziare al sindaco a comune di Sorrento, a Sorrento Folk grazie a tutti che hanno aperto il cuore a questa manifestazione hanno fatto e stanno facendo sempre tanto impegno per realizzare questo evento grazie a tutti grazie grazie on the other hand I would like to thank all the groups for coming there for being with us it's our pleasure for to see them again because some of them are coming for the second time in Sorrento because they liked your town very much and I hope this time they will all enjoy it thank you again ok, allora adesso realmente ci siamo inizieremo con la presentazione del primo gruppo che è un gruppo che proviene dalla Grecia allora, con i nomi e con le pronunce dei nomi dei gruppi è un po' complicato quindi mi scuso già per questa cosa allora, il primo gruppo è il Leografic Company of Musical and Dancing Studio il loro nome è Nikolaus Plastiras e appunto vengono dalla Grecia una piccola presentazione del gruppo il gruppo è stato fondato nell'autunno dell'83 prende appunto il suo nome da un ex primo ministro greco l'obiettivo dell'associazione è il mantenimento e la promozione del patrimonio culturale del paese ha pubblicato tre edizioni con canzoni popolari con la collaborazione di musicisti locali e di canzoni tradizionali ha organizzato variamenti, spettacoli di beneficenza, eventi di folklore e feste del turismo in collaborazione con l'Organizzazione Nazionale del Turismo l'associazione Nikolaus Plastiras offre una scuola di danza popolare composta da circa 250 ballerini di tutte le età ai quali vengono insegnate le loro danze il gruppo si esibisce sia in Grecia che in tutta Europa e stasera è qui con lui accogliamoli con un grande applauso prima di vederli esibire c'è un piccolo pensiero sia da parte nostra della Sorrento Folk e della città di Sorrento sia da parte dell'agenzia Blue Diamonds di nuovo un grande applauso ed accogliamoli sul palco grazie 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 Cagliari, 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 Nasi l'Aggio Paola Scegli Nasi l'Aggio Paola Scegli Nasi l'Aggio Paola Scegli Applausi Nasi l'Aggio Paola Scegli 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.